Eugenio Bianchi Eugenio Bianchi dopo una bellissima stagione invernale ha iniziato questa stagione estiva 2010 un po' sotto tono Cosa ci racconti? Niente, dopo un inverno così quest'anno è stato il primo anno che mi sono prestato nelle lunghe distanze è stato difficile recuperare gli sforzi dopo l'inverno adesso sto cercando di adattare un po' gli allenamenti per prendere bene anche questa stagione estiva e speriamo di recuperare un po' è partita un po' così però la stagione è lunga vediamo di fare qualcosa di buono più in là Hai cambiato qualcosa nella tua preparazione? Sì, sì, ho cambiato molto prima era una cosa più magari fatta a caso adesso sto cercando di mirare gli allenamenti più sullo sci e cercare di sfruttarli poi sullo schiro Possiamo dire che Eugenio ha messo la testa a posto? Eh dai, diciamo di sì mi sto mettendo la testa a posto Quindi a breve vedremo i risultati Eh, speriamo Bocca al lupo Grazie, crepi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti